Due gol perché in mezzo volevo crossare e hanno dato una sola porta, però siamo tutti contenti per la vittoria e io personalmente la doppietta è la mia prima e spero di farne ancora un'altra. Con questa prestazione sarà un bel grattacapo per Donadoni scegliere tra te e Mauri? Non lo so, chiedete a lui, non lo so, io sono pronto quando lui chiama e oggi siamo tutti a disposizione dell'allenatore e quando andiamo in campo proviamo a dare il 100%. Abbiamo visto non solo i gol ma anche dei recuperi in difesa, davvero ti sei sacrificato tanto, sei al top della condizione? Sì, sì, mi sento bene, lavoriamo bene tutta la settimana, io queste due ultime settimane ho fatto un po' di più sulla corsa perché è vero che io nelle partite non lavoro molto sulla difesa, Allora provo di iniziare a aiutare la squadra anche in fase difensiva perché questo è un problema.